Salvo, c'è un problema. Che problema? Salice è stato ucciso. Ho fatto tutto quello che mi avete chiesto. Vi prego, ridatemi mio figlio. Sono Virna Foreman, ingegnere capo del personale. Quello che è successo a Carlo Salice non mi convince. Forse stava lavorando su qualcosa di importante. Magari si tratta di spionaggio industriale. Chi l'ha mandata qui? E cosa è venuto a curiosare? Fui io a creare quel virus. L'SHO. Se prima il virus agiva solo sull'agricoltura, adesso attacca direttamente il mondo. Ma ti rendi conto di cosa stai facendo? Ma perché non avete parlato con i servizi segreti? Con l'Interpol? Dovete fermarmi. E stasera ci troveremo qui per festeggiare l'artista Antonio Marini per il suo premio alla gara. Ma che cazzo volete da me? Mi hanno detto di fare un lavoro su un dipinto. Mi riferisco alla fiala sulla quale ha messo gli occhi l'organizzazione del dottor Apoteli. Ma che cazzo volete da me? Ma che cazzo volete da me? Ma che cazzo volete da me? Quattro via non siete vini. Ma che cazzo volete da me? Grazie a tutti.